Teatro Nestor e polemiche per la corrisponzione dell'affitto dal gestore al comune di Frosinone, proprietario dello stabile. A tornare sull'argomento al consigliere di Frosinone in comune, Stefano Pizzutelli. Il comune ha comprato il Nestor a 640.000 euro, un affarone. Questa è l'unica cosa buona che ha fatto il comune sul Nestor. Di all'in poi una gestione sciagurata, ha commentato Pizzutelli, sottolineando come in questi primi anni di gestione non si è stato pagato alcun canone. La stipula del contratto è arrivata solo dopo due anni, stabilendo un affitto di 2500 euro al mese. Ma nell'accordo c'è scritto, ricorda il consigliere di opposizione, che dopo i primi 10 eventi gratis, in pratica la stagione teatrale, il comune se vuole fare un evento nel teatro di sua proprietà deve pagare 1176 euro ad evento. Pizzutelli ricorda ancora come quando il comune comprò la Stel Nestor. Ottaviani dichiarò che con l'acquisizione di un teatro del valore di oltre 5 milioni di euro al prezzo di circa 640 mila euro si sarebbe potuto iscrivere in bilancio una plusvalenza patrimoniale con un incremento di oltre 4 milioni di euro. 5 milioni? Il Nestor vale 5 milioni? E allora chiediamo ai cittadini di Frosinone, domanda Pizzutelli, se voi foste proprietari di un bene che vale 5 milioni di euro, lo affittereste gratis per due anni? E dopo due anni lo affittereste a 2500 euro al mese, ovvero a 0 euro al mese perché il gestore vi fa usare una cosa vostra? Facciamo due conti, 2500 euro al mese sono 30 mila euro l'anno e quindi sono lo 0,6% del valore dichiarato dal sindaco. Se voi possedeste una casa che vale 100 mila euro, l'affittereste per lo 0,6% anno, cioè per 600 euro l'anno? Cioè per 50 euro al mese? No, il comune invece sì. Oggi si viene a sapere che la Cinemateatro Nestor, SRL, non paga l'affitto da un anno. L'assessore Cirillo dice che il comune ha fatto la diffida e l'ha messa in mora e comunque ricorda infine Pizzutelli del bando per la gestione del Nestor dopo tre anni e mezzo non c'è alcuna traccia.